Ciao pollicini! Come va la scuola, è la scuola! Tutti quei suoni strani, tipo la gluh gluh! Ma io ho trovato un metodo per impararla subito, ed è una filastrocca! Si intitola Le stranezze della gluh! Andiamo tutti al Colosseo! Un giorno un gladiatore andò dal suo dottore e venisse preoccupato! Il mio nome è sbagliato perché ha un suono duro e sono il suono di sicuro! Non ti devi preoccupare, altri nomi vai a cercare! Glicine, glucose e glicerina ti aspettano in cantina! Globo, gladiolo e glasta stanno suonando la gran cassa! E se ti metti un po' a pensare, altre parole puoi trovare! Lo ringrazio di gran cuore, disse il gladiatore al suo dottore! Bene pollicini, guardate questo video 150.000 volte! Così imparerete presto a dire la gluh! Mi raccomando! Mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete con tutto il mondo e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Glah, 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 glah! Ciao! Ciao! Ciao!